Eccomi, 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 buonasera, no aspettate, aspettate una, state calmi, state calmi perché ti vedo che sei già agitato, sei già agitato come una belva, lo rifaccio, primo luglio, primo luglio, primo luglio, buonasera amici e amiche rossoneri, primo luglio, primo luglio, ma buona serata di questo giovedì, 30 giugno 2022, che ore sono? 19.41, presto che tardi, perché dico primo luglio? Perché la firma di Maldini Massara non è ancora arrivata, madonna cosa succede? Leggiamo la breve cronaca, ore 14.25, l'arrivo in Lega di Serie A, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha rilasciato un commento sui rinnovi di Maldini Massara, Scaroni dice, sono confidente, molto confidente, ma confidente di che? Ma che sei il confidente di qualcuno? Paolo Scaroni, uno di noi, uno di noi, voi dovete ficcarvele una zucca, vi stanno prendendo tutti in giro, ma non il nostro Mila, i giornalisti, i giornalisti, i titoloni, sì, quelli del Mila, quelli di Elliot, Scaroni, Cardinale, si stanno divertendo, si stanno divertendo con i giornalisti, ore 14.40, mi sembra una telecronaca quasi fantoziana, ma lo dico per ironizzare, per ridere, ne, belve, fatevi bravi, non fate le belve, nel primo pomeriggio è arrivato in via Aldorossi anche la D. Gazzidis, Ricky Massara ha invece lasciato casa Milan, per Rimini, dove questa sera Ricky Massara va al Grandotelli, si apre ufficialmente il calciomercato da Rimini, ore 14.40, ore 18.25, Ivan Gazzidis ha lasciato in questi istanti casa Milan, cioè praticamente Gazzidis è rimasto a casa Milan, dalle 14.40, ebbene, insomma, mica male, povero Gazzidis, che si becca il 5% della vendita del Mila, cioè 20 milioni di euro, ha fatto bene, perché è un grande manager, ha fatto bene, ore 18.30, ora ci siamo, Maldini rinnova con il Mila, secondo quanto ha preso da calciomercato.com, eccetera, il direttore dell'area tecnica ha accettato l'offerta e a breve l'annuncio ufficiale, Paolo Maldini, uno di noi. Allora, ragazzi, dopo tutta questa enfasi, praticamente vi dico solo una cosa, lo dico sempre simpaticamente, poi se c'è qualcuno che si offende, che se la prende, ma non me ne frega proprio niente, i titoloni dei giornalisti si sono divertiti alle vostre spalle, alle mie no, perché io non ci ho mai creduto i loro titoloni, la nostra proprietà si è divertita anche lei, a prendere in giro i giornalisti, non so se oggi avete letto le parole penose di Sven Butman, Sven Butman ha rilasciato le parole penose, Renato Sanchez e Compagnia Bella, questo mi sembra che non c'entri niente, ma questo è per farvi capire che è tutto correlato. Il Mila si è divertito alle spalle dei giornalisti, i giornalisti sono divertiti alle nostre spalle, praticamente c'è chi sa fare le cose con intelligenza, studia anche le situazioni e sa cosa deve fare, questo vuol dire che noi con Renato Sanchez non ci abbiamo perso niente, con Sven Butman dopo le sue parole penose non ci abbiamo perso niente e soprattutto anche del suo agente, non ci abbiamo perso niente, si sapeva che Paolo Maldini avrebbe rinnovato, era ovvio e tutti quelli che hanno detto che se ne andava dal Milan, sono tutti dei puntini puntini, gente che non meritano il mio commento, vi dico solo una cosa, Forza Milan sempre e comunque e ovunque, è uno spettacolo, io l'ho detto ieri, Maldini ha fatto qualche dichiarazione, no, Maldini ha detto qualcosa d'altro, no, Massa ha detto qualcosa, no, tutto è andato come, tutto sta andando come deve andare, vi mando un abbraccio, Forza Milan sempre, comunque e ovunque, ciao!